Ma la vera domanda è... Sivi, ma stai facendo un film? E' a tutti ragazzi e ragazzi, sono Sivi e oggi siamo tornati qui con un nuovo Vlogmas! Ah ragazzi, quanto mi siete mancati! Non ci vediamo giusto da un giorno. Oggi siamo al terzo giorno di Vlogmas! Madonna ragazzi, ogni giorno sono sempre più contenta di registrare questi cazzo fiterina di vlog perché mi diverto un fracco! Anche poi che non sentivo la parola fracco! Oggi siamo qui per portare il tema... Eh, fracolandia, no non è vero! Oggi siamo qui per portare il tema... Sivi, ma stai facendo un film? Allora, tutto questo è nato per una mia foto di Instagram! E non mi seguite ancora su Instagram, mi chiamo Sivi, trattino basso, show, trattino basso... Official, quindi seguitemi, il nome sta qui, mi raccomando andami a seguire su Instagram, adesso Sivi ti ascolta del video! Tutto è nato da questa foto qui che ho postato! Ecco, questo ha fatto esplodere i mondi! In poche parole è esploso Instagram e tutti mi sono venuti a scrivere... Oh mio Dio, sì, ma fai pubblicità di questo, quest'altro, mio Dio, ma fai film di... La risposta, ragazzi, è che questa ragazza... Cioè, tu la... Cioè, ragazzi, seri... Questa ragazza... Voi la vedete e dite... Wow, ma questa è Sivi! Venga, la risposta è no... Era un piccolo troll che mi volevo fare per poi annunciarvelo qui, sui... sui... Vlogmas! Perché, ragazzi? La ragazza della foto non sono io! Perché questa ragazza, in questa foto, ragazzi, come la vedete, è tale e quale a me! Cioè, voi la vedete così e dite... Madonna, Sivi, cosa stai facendo! E invece, ragazzi, e invece... Non sono io! Semplicemente questo screen mi è stato inviato dal mio carissimo amico Alessandro Montesi! Che mi ha inviato questo screen che ha preso da un video che postò Greta, tipo un anno fa, sul suo Instagram! Screenshot da quella parte e me l'ambio io, tipo, dici... Wow, ma è uguale! Identica, spiccicata, a me è questa! E allora, niente, ragazzi... Questa è la foto e... E la cosa che volevo dirvi è semplicemente che vi ho trollati malissimo, perché tutti quanti siete cascati a sta cosa, perché questa ragazza è tale e quale a me! Non la prendete come presa in giro, ma come troll! Per il semplice fatto che io, in realtà, vi sto preparando una bella cosina, anzi, non una... Ben due, ben due belle cosine! E questa era soltanto come prova, diciamo, usata, se un domani vi do una notizia del genere! Però io, ora come ora, non vi dico niente! Quindi, cioè... In questo momento dovreste mettervi a ridere e dire... Aspetti, allora, Sivi, ci sta spoilerando qualcosa! Shhh! Io non sto spoilerando niente, va bene? Shhh! Quindi, questo vlogmas, diciamo, di oggi, voleva trattare questa foto e volevo specificare che la ragazza qui presente non sono io! E ho anche trovato il nome della ragazza della foto, veramente, cioè, dopo di questo screen qui! E devo dire che, in realtà, nelle sue foto normali, non ci assomigliamo per niente! Però in questa foto, ragazzi, siamo tale e quale a me con i capelli ricci! Cioè, se voi la guardate così, adesso vi metto qui una mia foto con i capelli ricci e qui vi metto la foto di questa ragazza qui! Cioè, se voi le vedete, dite, wow, Sivi, ma sei tu! E invece, non sono io! Ben sì, è questa ragazza qui! Era un semplicissimo troll che volevo farvi soltanto per vedere la vostra reazione, quale sarebbe se un domani vi do una notizia del genere! E vedo che l'avete presa molto bene, anzi, siete stati tutti quanti felicissimi, quindi sono molto contenta di questo, appunto, approccio che avete avuto verso la foto! Anzi, no, non lo concludo, non si può concludere così un vlogmas, perché se è un vlogmas si deve parlare almeno per altri 5 minuti! Perché io, ragazzi, devo sapere che sono una persona di quelle che parla tantissimo! Volevo informarvi che a breve ci saranno delle sorpresone nell'ambito abbigliamento! Però, ricordo sempre che io queste cose non ve le ho mai dette, voi non avete mai visto questo video, io non sono mai stata qua! Bene, il semplice fatto! Ma come, continuo a fare così, a muovermi, un po' tutta casata sono! Voi non potete capire quanto, caspia, sia difficile fare un video al giorno, editarlo, caricarlo, miniatura, editing, scuola, amici, uscite, autio, vita sociale, atti! No, vita sociale, quella... quella... quella realtà non c'è mai stata! Ma comunque, sono molto, 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 molto emozionata per tantissime cose che stanno succedendo in questo periodo, e appunto vi sto dicendo che a giorni, a giorni, adesso non so ancora dirvi quando, comunque, fra qualche settimana, giorno, bla bla bla, darò qualche indizio in più su quello che sto facendo, diciamo, su una delle tante cose che sto realizzando, perché in questo periodo, ragazzi, anche se voi comunque mi vedete attiva, metto storie, cose così, Io riesco sempre a trovare il tempo per tenermi attiva, a fare video, cose e quest'altro, però sappiate che io, al di fuori di tutto questo, sono abbastanza impegnata, perché sto portando su dei progetti veramente, veramente grandi, che vedrete, questo ve lo posso garantire, che vedrete e ne rimarrete fieri di me, perché io ci sto lavorando veramente solito, quindi sono molto emozionata per queste cose che sto facendo, anche se adesso non le voglio dire, perché sennò, despole lo dute, dopo non c'è più l'effetto sorpresa, Cioè, capite? Così voglio anche tenere un pochino sulle spine delle rose viola. Invece voi, fatemi sapere se, diciamo, avete un piccolo sogno o qualcosa che state portando avanti, ad esempio, faccio un esempio veramente banale, eh, sì, voglio comprarmi le scarpe di Sivisho, cosa che non esiste, però facciamo finta che esiste questa marca, le scarpe di Sivisho, siete riuscite a mettere dei soldi da parte, e adesso, che ne so, fra due o tre giorni i vostri genitori vi accompagneranno a comprarvele. Questo è un esempio, diciamo, un piccolo traguardo che avete superato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se c'è qualche piccolo traguardo, qualche piccola ambizione che avete nella vita, e se l'avete realizzata, se non l'avete realizzata, se pensate di realizzarla, in che modo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti e parliamo un pochino, perché a me mi piacciono tantissimo parlare con voi, quindi per questo ho cominciato a fare questi vlogmas, se non l'avrei mai fatti se non mi piace parlare. Sono una delle persone, quando attacca, proprio così, a parlare, non ti attacchi più, quindi io vi do la buonanotte. Perché oggi sforo tutte parole a caso? Io vi auguro di non incontrarmi, ma per se non farmi mai una domanda, perché se mi fate una domanda, dopo, raga, cominciò a parlare, proprio a spadatrack, e da una certa quotidianità, sì, io devo andare a dormire, perché è stata come se fanno fatte e tre di notte. Quindi, mi raccomando, qui sotto nei commenti, sfogatevi di qualsiasi cosa, in ambito sogni, in ambito di ambizioni, qualsiasi cosa. Comunque, credo che per oggi possa anche bastare, vi ho dato qualche news, e in più, ragazzi, devo dire che il mio Babbo Natale ho provato ad attaccarlo qui e non regge, quindi a giorni devo andare a comprare delle puntine per metterlo qui, se no il nostro caro Babbo Natale muore. Nel senso proprio che mentre facciamo il video cade e addio al Natale. Quindi la vostra CV Show di fiducia vi manda un bacione enorme, vi ricordo di andare a seguire su un nuovissimo social che mi sono aperta da veramente poco poco poco, che è Twitter, quindi mi chiamo CV Show, CV, trattino, basso, show, non mi ricordo manco come mi chiamo, non mi ricordo come mi chiamo su Twitter. Mi chiamo CV Show, tutto attaccato, e basta, basta che mi cercate così, e mi troverete all'istante. Mi raccomando, confido in voi, sto per farla spaccare, adesso si spacca tutto, aiuto, aiuto. Detto questo, vi mando un grandissimo bacio, e vi auguro buon proseguimento della giornata, e noi ci becchiamo domani alle ore 15.30 per un nuovo vlog. Questa CV Show è tutto, ciao, 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 ciao.